Ciao Francesca, ben arrivata. Ciao, grazie. Sono tutti molto curiosa di sentirti perché, come tutti sappiamo, il turismo è stato proprio il primo settore sconvolto dalla pandemia. Quindi, benvenuta e ti lascio il barco. Grazie mille, mi fa molto piacere essere qui. Allora, io sono Francesca e il mio ufficio mobile è il trenino rosso del Bernina, a bordo del quale faccio proprio la guida turistica. Il mio talk vuole essere un momento di riflessione su alcune soluzioni e strategie creative per una guida, ahimè, senza turisti, ovviamente. Si parla molto di smart working e allora anche io in questi mesi mi sono chiesta se può esistere davvero, anche per la categoria delle guide turistiche, una modalità di lavoro non in presenza, da casa propria per noi che facciamo il nostro mestiere vis-à-vis con i turisti e scarpinando per le vie dei centri. E la risposta è sì ed è il turismo virtuale. Anche la guida turistica quindi può sopravvivere ad una pandemia che blocca il turismo globale. E lo può fare come? Tirando fuori la forza, la tenacia, agendo in modo resiliente. Tutte caratteristiche che sono tipiche anche di una tartaruga, da qui il titolo del mio speech. Una tartaruga però non come tante, bensì una tartaruga ninja. Scegliete voi quale delle quattro. Oggi vi propongo alcuni esempi virtuosi di turismo smart, parlando di amici, colleghi e anche della mia esperienza. Facciamo però un passo indietro velocemente al 2020 che doveva essere tra le tante cose l'anno del cinquecentesimo anniversario dalla morte di Raffaello. E in questo caso non mi riferisco a una delle quattro tartarughe ninja. Mostre, conferenze, visite guidate, 70.000 biglietti venduti per la mostra, le scuderie. Insomma, un'altra occasione per l'Italia di promuoversi e lavoro sicuro per le guide turistiche. Come voi sapete, i nostri programmi sono stati completamente spazzati via dalla pandemia e per tutte le guide sembrava che l'anno mirabilis di Raffaello si fosse trasformato nell'anno sorribilis del mondo. Molti piani quindi sono sfumati, una vera e propria doccia fredda per noi guide turistiche, ma per tutto il settore del turismo e non è neppure mancato il flash mob delle guide a Firenze nel giugno dello scorso anno. Ma ci si può rialzare e come dice l'articolo da cui sono partita nell'immagine precedente, l'anno di Raffaello non è stato rovinato, semplicemente è stato modificato. Nell'articolo si parla proprio di alcune guide turistiche che hanno colto l'occasione di questi segnali per creare un nuovo filone di visite guidate, quelle virtuali. Ed ecco che arriviamo così a parlare dello smart working per il nostro settore e inizio a parlare di Francesca Pagliaro, che è innanzitutto un'amica del freelance camp, è una guida turistica ed è fondatrice di Joy of Room. Che cosa ha fatto Francesca e il suo staff? Sostanzialmente è un breve video che parlava di Raffaello e che voleva descrivere gli affreschi di Villa Farnesina per il suo target, gli americani. Questi pochi minuti di video avrebbero poi permesso al suo target di approfondire con una visita virtuale live di un paio di ore. Ecco perché allora non utilizzare questa modalità per creare dei nuovi walk and tour virtuali live e così sono nati appunto tutta una serie di tour che Francesca e Joy of Room ha proposto durante i mesi scorsi e continua a proporre. Francesca cosa ha fatto? Ha osservato innanzitutto il nuovissimo contesto in cui viveva. Ha cercato un nuovo target, non più quindi gli americani che erano tipici del suo mercato, ma i turisti italiani di prossimità. Ha iniziato a muoversi velocemente per intercettare queste nuove esigenze. E attenzione perché queste cose possono essere fatte da tutti i lavoratori in una situazione di emergenza come questa. Lo staff di Joy of Room quindi inizia a lavorare a testa bassa da casa propria con Google Arts, smantando con il mouse e davanti a un PC. E nascono così i tour dal divano che tengono al centro il viaggio e l'esperienza. Un lavoro che è servito durante il lockdown, che continua a servire, ma che sicuramente servirà anche in futuro quando si tornerà a scarpinare chilometri e chilometri per i centri di Roma. Per Francesca il virtual tour sono stati delle opportunità per le guide, un nuovo passatempo per questi turisti americani che a distanza magari migliaia di chilometri da amici e parenti si dava appuntamento durante un virtual tour live con Francesca. Sono però anche dei preview del viaggio che sarà, quindi vedo quello che potrebbe essere la mia visita reale nel futuro. E sono anche il ricordo di un viaggio oppure potrebbero essere l'occasione in futuro di approfondire dei temi che durante la mia visita non sono riuscita ad approfondire. Ecco che dai virtual tour passiamo ad un altro esempio, a mio avviso molto virtuoso, che è quello di Matteo Prati. Lui è un tour leader, accompagna da 15 anni turisti ogni dove, è un consulente viaggi, nonché fiero collezionista di tazze da tutto il mondo. E ha fondato Travel MP. Ecco lui durante il lockdown si è visto sfumare tutti i viaggi che aveva programmato per i suoi clienti. Decide però di fare viaggiare comunque da casa le persone che lo seguono e lo fa attraverso Volo Diretta. Volo Diretta che cos'è? È una rubrica trasmessa live sia su Facebook che su YouTube, di 15 appuntamenti che erano stati programmati tra maggio e giugno, ma che continuano tuttora. Sono dei veri e propri virtual travel. E lui chiede aiuto alle guide turistiche e ai corrispondenti locali che ha conosciuto nei 15 anni di lavoro. Ecco che Matteo ci fa sostanzialmente viaggiare a distanza, a casa nostra, dall'India alla Russia, dall'Uzbekistan alla Finlandia. Insomma, il suo Volo Diretta è un modo per parlare sì di monumenti, di paesaggi, ma anche di cucina, di gastronomia. A tutti gli effetti si tratta di un non viaggio, perché è qualcosa di solamente multimediale, ma quasi sicuramente potrà diventare un viaggio nel futuro. Ecco che i virtual travel diventano la risposta ad una necessità che è quella del viaggiatore che è rinchiuso, barricato a casa, ma che adora il viaggio e non vede l'oro di ripartire. Il tentativo di tenere alto l'entusiasmo di noi, che siamo operatori del turismo, ma anche di chi ci segue. È un ottimo modo per fidelizzare i nostri clienti, che guardando in questo caso le live ovviamente restano attivi e continueranno a seguirci anche dopo, a pandemia finita, ed è uno strumento che resta visibile nel tempo con cui possiamo promuoverci. Come abbiamo visto sino ad ora, c'è chi dà voce al tour virtuali, c'è chi dà voce ai viaggi multimediali e poi c'è l'Oquis, che dà voce al mondo. Cerco di spiegare brevemente questo ulteriore attrezzo di lavoro. Io l'ho scoperto proprio durante il lockdown, quando mi sono avvicinata ancora di più alla piattaforma di geopodcasting e in genere i podcast, e ho trovato appunto l'Oquis, che è una piattaforma che geolocalizza, è un'app che si scarica sul proprio telefono ed è una sorta di navigatore di storie. In pratica ho una breve storia da raccontare, creo il mio canale sull'app, registro l'audio di pochi minuti e il gioco è fatto, il mondo mi ascolta. E lo fa attraverso appunto quest'app che geolocalizza il luogo in cui ci troviamo e ci propone l'Oquis a noi più vicini. Consente però anche di sentire questi micro audio e i vari canali a distanza. Calcolate che secondo una recente ricerca, l'audio è diventato nel 2020 un aiuto concreto proprio alla rinascita del turismo. Rispetto all'anno precedente c'è stato un incremento del 4% degli utilizzatori di podcast, che si traduce in 8,5 milioni di ascoltatori mensili e pensate che il 30% degli italiani ha ascoltato podcast nell'ultimo mese. I dati, se letti bene, sappiamo ci forniscono la strada da seguire e sono un suggerimento da accogliere. E così ci ho provato anche io e sono diventata tra i 250 creatori di L'Oquis. Io vi dicevo, faccio la guida principalmente sul Tremino Rosso e per mantenere alta la tensione, l'adrenalina e l'entusiasmo per il mio lavoro durante il lockdown ho cercato nuovi stimoli, dei nuovi lavori. La pandemia ha sostanzialmente ridimensionato la geografia del turismo e la composizione dei turisti. Non più grandi gruppi, che erano quelli che accompagnavo, ma poche persone desiderose di scoprire esperienze local, sempre più vicine. Ho programmato quindi delle nuove tipologie di guide ed ho creato il mio canale Loclist, a spasso con Eppi. Ecco, vi presento Eppi, che è una mascotte, è il mio alter ego maschile, questa marmotta che vedete qui raffigurata, che funge un po' da consulenti virtuale, nella comunicazione che gestisco per il portale trenino-rosso-bernina.it, di cui sono co-founder e che proprio quest'anno compie dieci anni. Prima di scrivere ovviamente i miei L'Oquis, ho pensato a fondo al ruolo dei microaudio in correlazione al mondo delle guide turistiche. Mi sono chiesta, può una serie di audio come L'Oquis diventare un concorrente di una guida in carne ed ossa? No, non può. Nessuna competizione, ma un network, una correlazione di azioni. Ecco i punti di forza che io ho trovato nel lavoro smart e a distanza dai turisti. Un L'Oquis però è un mezzo simpatico alternativo per aiutare a costruire un tour, un approfondimento per temi curiosi e una sorta di street food della cultura, un assaggio di noi guide. Quindi quest'app ci permette di farci conoscere. Dà la parola a tutti e addirittura dà la parola anche ai sassi. In che senso? E parlo ora di Annalisa Reggi, che ha fatto della divulgazione il suo mestiere. Lei non è una guida, ma il suo progetto Pietre Parlanti strizza l'occhio alle guide. E realizza documentari e ha spesso la testa per aria. In che senso? Lei ha la passione per le tag che vengono apposte sugli edifici, che grazie a lei prendono davvero vita nelle storie, nei nomi dei personaggi vissuti in quel palazzo. Ecco che ascoltando Annalisa mi sono detta. Certo che si possono creare delle relazioni anche virtualmente. Perché non parlare del suo progetto? Potrebbe essere il seme di nuove relazioni tra lei, il suo amore per la divulgazione e le guide che fanno dello storytelling la propria professione. Ecco che il mondo virtuale di Annalisa proposto su Loquis può diventare un tour guidato per delle reali guide turistiche. Bene, se invece l'anno suorribilis di Raffaello, da cui siamo partiti, non vi ha mostrato proprio nulla di buono, allora sappiate che c'è anche la guida che ti guida, a ritrovare l'entusiasmo per la propria attività. In questo caso sto parlando di Sabina Viezzoli, un'altra amica del freelance camp, guida ambientale in questo caso, ideatrice del tour della Bora, fondatrice di Vitamina G, che è un multivitaminico per le guide, un blog con tantissime informazioni e consulenze. Ecco che il lockdown per lei ha significato un duro lavoro, ha dovuto sconvolgere ovviamente la sua comunicazione, reimpostarla e soprattutto ha dovuto dare una nuova chiave di lettura al suo lavoro. Quindi lei è passata da una lavagna di una live masterclass dietro il PC, mandando ovviamente newsletter e vi dicendo. Innanzitutto dapprima ha condiviso con le guide turistiche che già la seguivano, degli articoli utili con il tema della comunicazione di se stessi durante il lockdown. Poi ha ascoltato i nuovi bisogni delle guide turistiche che nel frattempo erano cambiati attraverso dei questionari e delle interviste che ha fatto e poi ha realizzato dei nuovi corsi online, proprio sulla base di queste necessità che sono nate nel frattempo e ha fatto un vero e proprio restyling delle sue consulenze. Ha trovato quindi anche lei il modo di lavorare e di farlo diversamente dapprima. Concludo quindi il mio talk con una considerazione che a mio avviso è valida per qualsiasi lavoratore freelance. E cioè è una situazione, quella che stiamo vivendo, sicuramente critica e di emergenza, ma dobbiamo essere in grado di coglierla come opportunità. E cioè leggere i nuovi bisogni di noi stessi, del nostro target, ricercare una nuova offerta, mantenere vivo l'interesse dei nostri clienti con varie modalità e coltivare anche virtualmente le relazioni e i network che si possono costituire in questa situazione. E soprattutto questa situazione di emergenza ci deve comunque spingere a reagire e a tirare fuori la tartaruga ninja che è in noi. E così concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Vi aspetto ovviamente sul trenino rosso quando ripotremo partire assieme. Grazie mille. Grazie a te Francesca. Grazie a te Francesca.